ciao a tutti salve a tutti ragazzi allora ce l'avamo lasciati lì è passato un po' troppo tempo non è diverso insomma è passato un po' troppo tempo cioè infatti tipo il fano c'è il barrucchino vabbè anche io però me ne sono ritrovati e lui sono ricresciuti e niente andiamo giochiamo cioè si finisce si finisce si finisce davvero fa l'episodio di 30 minuti l'episodio di 30 minuti fa ah sono io un malato ma dove la mia andata di parte l'episodio ma devo tornare via poi sei a stili facce di merda eccoci no la vecchietta uscita ma dove vai ah beh chiaro lì scusa di sassi che si è finita lì la camoita ah vabbè andiamo questa scena di te l'arrivai di diretti andiamo che stessi non è normale che più giù ti vengono di ammettere ti vengono ma sono la sega ma sono la sega chiesti mai di tenere ehi salvataggio attenzione beh ma vai stacci di muoverteli ma se vede mi scappa beh fatti si ma corri piano vabbè dove ho vabbè 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 è una crazzina destra mutati di sordi vai oh via oh c'è un altro pochino perchè non no vabbè ma ci metti a sordi non mi cavo abbastanza addosso ma sei scema vai vai smetti 75 insomma comunque si finisce spendi finito questo gioino vabbè che questo è blaue che alla fine anche perché lo strozzo c'è da l'idea si è lo strozzo perché siccome è finta di lavorare no no non è dire non c'è mai tempo in giù quindi è meglio è vero un cazzo finta del tempo ma è vero un cazzo sentimi c'è brutto tempo fuori per il citofano non è meglio per il citofano faccia no 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 ma tutto buon io scendo di qua poi fate voi no ma dei tempi ma l'hai voluto alzare senti che cazzina sceglie ma l'hai alzato te ma dai schizzi ora me lo dici te dove cazzo devo andare poi cazzo no ma c'è la luce lì no ma c'è la luce lì no ma c'è la luce lì no ma c'è questa parte no qui non ci sono più finocchi dei bastardi a destra oh scemole oh ma cos'è questo uomo ma cos'è questo uomo questo scatto io certo cosa ho sentito si chi è scusi scusi non ho capito ah eccoci c'è una luce c'è una luce fatti sei 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 cretino oh no vai a sinistra c'è una luce no lascialo per a sinistra vai no no nemmeno di va no ma io ci posso entrare in questo posto ma giù c'è nessuno giù sei il primo piano ma cadisci ascemole ci stacca vabbè vittima dredo vai 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 stiamo fermi no no stiamo fermi dè dura dè dura vai vittima guarda 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 vittima vittima Oh te lo dico io cosa succede? Allora Prima c'era qualcosa che dava la scossa, no? Beh, hai saputo giù l'interruttore perché la scossa se non la dà più Eh, forza! Ora si dimentica indietro Ma la dà sempre la scossa, la fama Grazie a me Ma chi è? E' qualcuno che scrive Sei te che scrivi? Mamma mia Aspetta, guardi E' lo vino Te lo dico io Il taccuino c'è una merculo MERCULO Te lo dio io, guardi C'è qualcuno che ci fa brutti scherzi E' come vedi E c'era, c'era uno Vado in realtà T'altro cosa vedi Ma c'è noi si Tu 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 Ca mai Pezzo di me ma te sei idiota ma te dovete mandare di va oh e mo danger danger ma te è solo il malato di va di va fa piccino il casino ma poi hai anche scherzi ma capito nemmeno io si tu non hai cambi per favore la pila ora si cambia siamo carni no dili che questo via non è tutto il cazzo no dè si può mi giocare a questo giovi con i rumori anche io c'è anche a che bello scusi hai notato quello di scusi scusi qui nel bosio nella loia vabbè questo che sa vorrei dire perché c'è le scuole non casco non scuole probabilmente tu la vedi se c'è no l'ho visto se comunque manca sempre un po' scusate no no vabbè fa caldo siamo buoni te le lanci sto per il tempo e te lo dio sono dove è prima per la donna no eh si ma dove sei forse sì direi ah non l'ho visto oh dio dettelo serio perché te hai avuto un po' di un po' sì cioè noto lui vorrei tanto sapere da dove casca a bibi casca da sopra no bibi eh lo so ho fatto di giocare al bioshock con i fari tu ci hai giocato che sei non so no beh te il luciare il sonno senti un po' te puoi ridere se non so questi rumori mi turbano un po' turbe giovanili te lo dio il battuto vai qui c'è una scala qui c'è una scala eh sta a salire io ho nerviso ma lui con te lui con te beh va avanti va avanti senza cucù K2 noi Auslast siamo entrati di b è per fuori me lo ricordo io ma io proviamo oddio mio ci farò asciuga c'è ha preso una migliata ne è morto si avvice dai forse è meglio abbassare per esempio non me lo coglioni ma è sessanta ma è sessanta ma è sessanta ma è bella sia di lerci sceglie altrimenti vedi lo scalzo di emanzifoni no ora io lo sento fino a sega te lo dico ah ora ti preoccupassi eh oddio ma io eh qui un bel problema te lo dico io ce lo dico eh ci vedo eh allora dunque se avessimo il visitatore se lo avessimo si ma da dove ah non lo so non lo so una bagno ahio va forse va chi è gruschi è gruschi sassata sassata li va a gift to the ground lo spazio lo fai no ma sassata ma non lo so 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 che te ce l'ha pensato essere un figlio di Outlast cioè lui che immagino che la te la merita chi è oh è slender verto com'è tutto a posto e fuori un po' troppo ma io salve fan silenzio se ci prendono c'è qualcosa nel viso ci daranno pasta a lui e l'uomo di sotto quell'uomo davvero cattivo no ma mettetelo nel culo vertizio di me no sentitevi qua ma ero l'idea 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 ah no parlava finora ah vabbè ma che stracciata bb ecco no 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 cosa cazzo vuol dire mi spostavi ehm ah te lo dico ma si ma c'è quello stronzo che mi sta venendo dietro oh doppio senso vediamo di proviamo di qua infatti chiaramente sbaglia su strada oh beh per forza ah no invece no ma ah ah cosa ah ah cosa ma qui saltate ma dove ti va vai una porta no quella non va nemmeno questa dio cristo e non mi si aspettavo di eccomi è no ma no ma io qui non ci sto capendo più un calcio no vedo va bene va bene vai io paura di trovo qualche pozza di me salta lì salta lì forza forza è per forza siamo carmi forza basta che siamo carmi la trombettina oh e non addosso urlo dio vai 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 ancora lì vai vai ah idiota poi e ora ah qui ho il culo vieni salta sopra salta sopra se vai ho avuto questo stesso senso hai fatto bene come vedi vuole sempre raggiunto mira oleee va giù con la sposa che fira con la sposa no abbiamo una pila sola simone simone abbiamo una pila sola vabbè non hazi due perché te che ti scala la uso no no io tengo così hai fatto ma se c'è la luce oddio ma cos'è sesso alto sesso estremo dirti sex aspetta mi fa un selfie dove vuoi le fa un selfie in questa situazione se dov'è youtube ce la panna le fa un selfie lo dio io qui ci sono va bene ma è stato uno tu l'hai visto mi ha tirato ah si ah si andiamo a vedere chi è ovviamente che si fa no andiamo a vedere chi andate lì andate ma non possiamo giocare a questi giovedì ragazzi te la porto guarda no oddio ancora ancora te la porto no no ma lì entra no 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 lo so no le no bene questa volta ti metterai a pezzare male no Simo, è un problema ora, se lo dico dove andassi? ma corri dove? ma vedrai, perchè prima di sto siamo venuti io vaffanculo, mi ero scicciurato con la goda dell'occhio con la goda, scappa, corri, lui vedi la porta prima era user, bratti i mobi vai, 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 vai destra, vai dov'è? non lo so eccola era user lì prima ora si chiude ventana e metà, fa qualche mobi, vai qui? vai una pila una pila un tento matto e fanno lì qui, c'è una porta ecco lui è brujol, qui è venuto ok oh via no un chiude, vai ma dammi retta dee un chiude un ciclo mestruale e mai dappertutto ho cercato ma nessuna fanciulla ho trovato ha detto fanciulli il tuo quindicesimo strannome chiudi, chiude tutte le porte dai ma vedi non usava e dai dai oi oi dee ma cosa sono queste tue ma è uno suono, ma cos'è, 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 cos'è si vabbè o dee vabbè vabbè ma capo, le vado ah no, aspetta veloce ma vado un culo certo lo fai se ti pare perché lui va piano, guarda ma parevolo di rammstein vabbè guarda ora, fallo venire qui dove lo fai se tu passo di qua no, qua so più da nessuna parte vabbè vabbè fortissimo no, ancora ah, devi, va con il culo di qua vabbè disperta vai c'ho un pezzo di mistichezza nel gioco credo guarda spera che tu spingi l'osso faccia del tempo ho capito ma mi ha dato noia la musica oh, vedi che si fa qui si chiude vaffacura gioco di me, gioco di merda boia dee vai, salta aioh, la scala aioh, la scala aioh, la scala di merda di boia non è possibile ma che cazzo è fatto c'è trovi boia, le sei semplice la cala gamma aia aiah aaaaaah aiah odio per te ora ma ha spaccato anche l'ascensore io si sinceramente si intenderà male ma si partiamo lì piuttosto a star con te uai calata duomo uèh, l'hanno preso da francia lo hai non lo vedi? è uguale è chiamata la scienza ma se vado su cosa su? muoviti! ti schiaccia ma che schiacciate? volevo andare su ma la senti qui e sai che qui? a te stai angrezzando la sala ma fate bisogno di andare te lo dico io fanno che c'è questa intuizione nooo si si se non è si dai qui ecco ci ha preso ti ho preso come fa piacere bellina bello scartato al corretto ti ho tratti meno male cioè no comunque è una stronzata se ti volessero davanti e ti uccidevano adesso hai voluto di nascondere il gioco è un gioco il gioco è un gioco è un gioco il gioco è un gioco non è un gioco non è un gioco ma se ti mette la toglia meno meno prima no? oh ma oh ma bello eh lui vuole una famiglia lui vuole una famiglia visto che voglio ciao 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 ciao